Alunni e insegnanti costretti a indossare giubbotti, sciarpe e berretti all'interno delle aule. Una fredda, freddissima ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie nelle scuole di Sciacca, dove non si è proceduto in tempo ad effettuare la ricognizione, manutenzione e attivazione degli impianti di riscaldamento. Soltanto ieri è stato avviato tale intervento, che ovviamente richiederà diversi giorni per essere completato. L'assessore alla pubblica istruzione, Maria Antonietta Testona, ha legato il problema alla mancata approvazione del bilancio e delle somme a disposizione per tale lavoro, aggiungendo che ieri si è comunque proceduto a reperirle, facendo ricorso alla gestione provvisoria. Il dirigente comunale, rispondendo ad una interrogazione presentata ieri dal consigliere Mario Turturici, ha sottolineato di aver acquisito solo recentemente la competenza sulla manutenzione degli impianti di riscaldamento e di aver avviato ieri la ricognizione e manutenzione delle caldaie, conditta specializzata compatibilmente con le somme che sono state messe a disposizione. Insomma, la solita storia. L'attribuzione delle responsabilità è cosa assai complicata. E in questo caso a pagarne le conseguenze sono alunni e insegnanti costretti a patire il freddo, che anche nelle nostre zone non può essere certamente considerato un evento eccezionale. La questione ha generato forti proteste da parte delle famiglie, soprattutto dei bambini di scuola materna ed elementare, e pare abbia fatto infuriare lo stesso sindaco Fabrizio Di Paola, anche perché monta la polemica politica, come era facile prevedere, proprio sul ritardo con il quale si sta procedendo alla verifica e attivazione degli impianti. Nessuna giustificazione per il consigliere Mario Turturici, anche perché sostiene la situazione del patrimonio edilizio scolastico non è più critica come poteva esserlo qualche anno fa. I finanziamenti ottenuti hanno consentito all'ammodernamento la messa in sicurezza di diverse scuole e non ci si trova, aggiunge Turturici, in presenza di problemi strutturali che richiederebbero interventi di manutenzione straordinaria di notevole costo. Si discute soltanto di verificare e attivare gli impianti, procedura che qualsiasi famiglia nella propria abitazione effetta già in autunno e non in pieno inverno come sta avvenendo per il riscaldamento nelle scuole. Di ennesimo atteggiamento di superficialità da parte dell'amministrazione comunale parla anche il consigliere Filippo Bellanca. La scoperta che gran parte dei termosifoni sono guasti e in qualche caso mancanti, scrive in un comunicato stampa, sta sollevando una vera e propria ondata di indignazione da parte dei genitori. Ed è comprensibile, visto che non si è pensato in tempo ad una verifica degli impianti come se l'inverno non dovesse mai arrivare e non fosse stata annunciata nemmeno l'ondata di freddo o gelido in questi giorni. Si poteva approfittare delle vacanze natalizie, aggiunge Bellanca, ma neanche questo è stato fatto. Ritardi su ritardi e si arriva al 10 gennaio con le scuole ancora senza riscaldamento e molti genitori che hanno preferito lasciare i figli a casa. L'amministrazione comunale faccia mia colpa, conclude Filippo Bellanca, è di cacchiare lettere e di avere sottovalutato il problema, senza trincerarsi ancora una volta nella mancanza del bilancio di previsione. Al sindaco ha tra l'altro ricordato che quando era consigliere era particolarmente attento alle problematiche della scuola. Chi poteva immaginare che in inverno servissero i riscaldamenti, commenta anche il consigliere Giuseppe Ambrogio, che evidenzia come l'amministrazione non sia capace di programmare, ma soltanto di procedere per emergenza. Non si comprende che cosa hanno aspettato e che cosa hanno sperato, aggiunge Ambrogio. Forse che il freddo non arrivasse?